Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati qua sulla First Blue, ragazzi, sulla serie europea. Qua, ragazzi, ho veramente un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di roba da fare, amici miei. Molti lavoretti li ho fatti live su Twitch, su cui vi invito sempre a venire, perché vado in live quasi tutti i giorni. Comunque, ragazzi, ho raccolto il cotone, ho raccolto tutta la colza e ho seminato i girasoli che ci serviranno per produrre biodiesel, appunto, nella fabbrica di biodiesel. Quindi ci servono girasoli e colza, la colza l'abbiamo raccolta, abbiamo riempito, diciamo, i nostri stabilimenti e adesso ci servono i girasoli. Li ho seminati tutti, li ho seminati negli altri campi e adesso, visto che ho raccolto il cotone, il cotone che ci ha fruttato quasi 500.000 euro, più o meno, 400.000, ma anche 500.000, adesso lo ricordo proprio esattamente, ma comunque due campi di cotone ci hanno fatto tipo 8 balle e 8 balle, ragazzi, ci hanno fruttato tanti, tanti soldini. Adesso, questo campo qua, che è il 13, come vedete, il 13 ci serve, ops, ho saltato un cosino, il 13 ci serve l'aratura, quindi va arato, le condizioni del suolo sono aratura richiesta, mentre per quanto riguarda il 14 basterà semplicemente, basterà semplicemente, ok? No, il cosino, come si chiama? Il coltivatore. Ok, ragazzi, detto questo, adesso, oggi non andremo a riseminare il cotone un'altra volta, perché, insomma, noi possiamo fare 100.000 lavorazioni tutti insieme, possiamo anche lasciare riposare un attimo il cotone e concentrarci su altre cosine. Vediamo un po', qua, metto l'operaio, ragazzi, ecco fatto, signor operaio, vadi, vadi, eccoli qua i campi dove ho seminato i girasoli, ragazzi, vedete, il 18, il 19, il 21, il 27, il 26, il 25. Poi, i nostri pioppi sul campo 11 stanno crescendo, sono in fase di crescita, tutto fertilizzato allo stramassimo, e, come vedete, il campo che noi, appunto, stiamo dando è il 13, 13 e 14, che torneranno, ragazzi, al cosino, ok? A cotone, ma, insomma, questa è una cosa che adesso si può fare più in là. Diamo uno sguardo ai nostri animali, le nostre mucche stanno a posto, i nostri cavallucci, ragazzi, stanno a posto, quindi direi che nella puntata di oggi possiamo iniziare anche qui con altri tipi di animali. Io, ragazzi, tornerei in farm, eccomi qua, vediamo un attimino, intanto non credo che mi accetti la fertilizzazione, perché l'ho seminata e l'ho fertilizzata, quindi il campo per accettare la fertilizzazione un'altra volta deve avere almeno il successivo stadio di crescita, quindi no, non possiamo nemmeno fertilizzare, quindi, ragazzi, io direi che è arrivato il momento di fare le pecorine, ci dedicheremo alle pecorelline, i maiali su questa serie non li farò, perché li faccio già sullo stream, anche le pecorelle le faccio sullo stream, ma le pecorelle non mi costa nulla gestirle in due partite diverse, mentre i maiali richiedono un po' più di tempo. Allora, prendiamo il pascolo degli ovini, quello, beh, io direi di buttarci subito quello più grande, dai, siamo ormai, siamo ormai belli ricchi sfondati su sta serie, il problema mo' sarà trovare il posto, trovare il posto dove mette, allora, ad esempio, questo capanno qua, ma non ci cave qua, non ci entra qua, raga, e se invece quella più piccola c'entrerebbe? No, non c'entrerebbe nemmeno quella più piccola, raga, quindi, allora, vediamo un po', dobbiamo trovare un punto dove mette sta cosa, allora, vediamo la mappa, vediamo la mappa, ci serve un punto dove posiziona sta stalla, forse, ragazzi, ci conviene comprare il 17 e sacrificarlo, dai, sacrifichiamo il campo 17, facciamo così, allora, il campo 17, aspetta che apro la mappa, il campo 17 l'abbiamo appena comprato, bisogna sacrificarlo, ragazzi, bisogna sacrificarlo, allora, prima spianamo un po', perché se non spianamo un po', diventa poi, aspetta, diventa poi molto difficile mette la stalla delle pecorelle, e poi facciamo magari tutta la stradina, tutto quanto, però prima, ragazzi, spianamo, perché se no qua le pecorelle ci viene male, ci viene male il cosino, ok, dammo una bella spianatina, poi facciamo una bella strada, e qua, ormai, questo non può essere più usato come campo, qua ci faremo, ci faremo altro, dai, questa puntata la dedichiamo, la dedichiamo ad altro, la dedichiamo ad altro, facciamo così, vedete, qui ci lasciamo la strada, ok, qui ci lasciamo la strada, così, ragazzi, piano, ci lasciamo la stradina, così, ok, perfetto, adesso la smussiamo un po', smussiamo un po', la stradina, perché ci sta di smussarla un po' la stradina, smussiamo un po' la stradina, perché se no qua non si entra, non si entra, ragazzi, non si entra, mica, non si entra mica, ok, smussiamolo, ragazzi, smussiamo, quanto smussa bene Robimello, quanto smussa bene Robimello, anzi, forse smussa pure troppo Robimello, mi sa, ci sta una via una marea dei sordi, ragazzi, ma una marea proprio dei sordi, e tra poco non ci basta, non è meno per, non ci basterà nemmeno per, come si dice, per comprare la stalla, volete scommettere che bisognerà fare un prestito, guardate che roba, ok, perfetto, adesso qua ci mettiamo la stallina, recito per gli animali, non sono più convinto di comprare quello grosso, sapete, il pascolo degli ovini, mi sa, compro quello piccolo, vabbè, dai, compriamo quello grosso, ormai ve l'ho detto, ormai ho fatto la figura, ormai ho fatto la figura, ragazzi, e voilà, e voilà, pascolo, pascolo, e adesso, ragazzi, dobbiamo erbare, che fordì erbare voi direte, erbare, ragazzi, dobbiamo fare tutta d'erba, perché, come vedete, l'erba, ormai questo non è più un campo, dobbiamo fare assolutamente tutta d'erba, ok, ok, erbiamo tutto, speriamo che ci bastano i soldi, se no bisogna fare un prestito, l'ennesimo prestito, per erbare tutto, ragazzi, e che ovviamente il campo tagliato a metà, non si può assolutamente vedere il campo tagliato a metà, ok, facciamo così, che va benissimo così, ragazzi, ok, qui poi ci faremo una doppia stradina, io già ho in mente che cosa metterci di qua, ragazzi, io già ho in mente tutto, Robertino vostro c'ha già in mente tutto, amici, c'ha già in mente proprio tutto, ok, erbiamo, continuiamo ad erbare, ad erbare, ok, e avevo in mente, ragazzi, se mi avanzano i soldini, ma non mi avanzeranno, quindi probabilmente lo faremo nella prossima puntata, di fare tutta, tutta una zona di pannelli solari, perché l'ho visto da Nick, e mi sono innamorato della sua zona con i pannelli solari, è fighissimo, ragazzi, quindi vorrei fare insieme a voi anche io un po' di pannelletti solari, ok, allora, aspetta che qui, ecco, è un po' troppo, ok, così, perfetto, qui, ragazzi, c'è la strada, e dobbiamo, dobbiamo disegnare la strada pure qua, perché qua, ragazzi, si deve capire che qua c'è l'entrata delle pecorelle, ok, qua, così, facciamo tutta la zona, questa è tutta la zona pecorellosa, si può dire zona pecorellosa, sì, ok, questa è tutta la zona pecorellosa, ragazzi, quindi qua togliamo, togliamo l'erbina, ok, togliamo l'erbina, facciamo tutta la zonina pecorellante, pecorellosa, così, ok, guardate che spettacolo di zona pecorellosa che vi sta facendo Roby Mel, ricordiamolo, ragazzi, la zona pecorellosa di Roby Mel, ok, e adesso ancora erba, ancora erbetta, ragazzi, ancora erbetta, ancora erbina, ok, qua, tutto intorno qua, perché sennò non si può vedere che manca l'erbina, ok, qua mettiamo tutta l'erbina, anche qua, ragazzi, ci deve stare tutta l'erbina, che famo, togliamo l'erbina, non si può togliere l'erbina, qua, ragazzi, c'è un po' di salitina, quindi per farlo capire ci mettiamo un po' di erbina, ok, nasconde un po' i dossi e cose varie, qui ci mettiamo l'erbina in mezzo, ok, facciamo proprio così, guardate che spettacolo, che spettacolo, ragazzi, mi piace un botto, sta avvenendo bene, sta... ok, e qua ci faremo l'entrata, poi, casomai, per i pannelletti solari, adesso la lasciamo perdere, ok, grazie alla modda Animal Keeper, noi dobbiamo solo dare da mangiare alle pecorelle, non c'è bisogno, non c'è bisogno che gli diamo la, la, come si dice, la cosina, la, 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 l'acqua, ok, allora, però, magari, prima di dare da mangiare alle pecore, magari le pecore bisognerebbe comprarle, non sarebbe poi una così cattiva idea, e per comprarle, ragazzi, eh, 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 vediamo un po', dobbiamo scegliere la razza, io direi, ragazzi, eh, di prenderle un po' mischiate, tanto qui, ragazzi, non c'è la, come si chiama, la, la season, e quindi non è che ci sono varie razze, quindi ne prendiamo, eh, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci bianche, ok, così ci fanno più tipi di lana, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci di queste, eh, poi, ehm, dieci, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci di queste, eh, e, ehm, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci di queste, così iniziamo con quaranta, la stalla è più grande, ma i soldi non ce l'abbiamo, quindi piano piano aumenteremo, guardate le nostre pecorelle, pecorine miste, torniamo, dopo aver visto le pecorine miste, torniamo un attimino in farm, così, ragazzi, portiamo la pappa alle pecorine miste, eh, non so, ahia, ho dato una botta assurda, raga, non so se l'avete sentita, una botta assurda, ahia, vabbè, comunque, eh, comunque so cose che succedono, allora, portiamo, eh, alle nostre pecorine miste, gli portiamo adesso due balle di fieno, vediamo se gli bastano, non so, quaranta mucche, sì, vabbè, quaranta pecore, quanto pappano, e poi andremo a fare altri piccoli lavorettini di rifinitura, e poi chiuderemo la puntata, allora, innanzitutto possiamo tranquillamente passare sul campo, perché tanto non è cresciuta la cultura, quindi voi sapete che finché non è il secondo stadio di crescita, su farming potete tranquillamente camminare dove cavolo vi pare, non succede niente, ecco qua giù la nostra farm di pecorelle, poi bisognerà passare dalla strada, quando le culture sul campo saranno belle che cresciute, allora, eh, l'acqua dovrebbe essere già piena in automatico, mi sbaglio, cioè, scusate, non c'ho l'animal keeper, un attimo, eh, vediamo se c'ho l'animal keeper, perché manco me lo ricordo, cioè, mi sto a confondere con, ok, allora, riempimento della lettiera, sì, abbeveratoio animali, sì, ok, tutto, tutto a posto, tutto a posto, quindi dovrebbe essere già pieno l'abbeveratoio, e noi gli portamo da magnà, pecorelle, v'ho portato da magnà, v'ho portato da magnà, buon appetito, buon appetito, allora, vediamo un po', vediamo un po', eh, eh, beh, ancora un altro viaggetto, ancora un altro viaggetto, non stavo nemmeno a metà, raga, nemmeno un altro, ancora un altro viaggetto, faccio un piccolo taglio, eccomi ragazzetti, secondo viaggio, secondo viaggio, dalle nostre, peee, mamma mia, mi stavo per cappettare, dalle nostre peee, corine, poi qui ragazzi, ci metterò un fienile, anzi, ce lo metto subito, in modo che raccoglierò il fieno sfuso direttamente, anzi no, non ce lo metto, c'ho 13 mila euro, o metto il fienile, o pranzo oggi, o c'ho, io c'ho i soldi per, per pranzare, eh, non so perché, l'animal keeper, non mi ha ancora messo l'acqua alle pecorelle, ma forse lo farà, lo farà in automatico, vedremo dopo, adesso non me ne occupo, tanto vedrete che lo farà sicuramente tra poco, non è ancora magari partito lo script, intanto io, eh, ritorno in farm, perché devo fare altri 100 milioni di lavoretti, ad esempio, andiamo, eh, ad occuparci del biogas, perché anche il biogas ragazzi, è alla sua importanza, in questo momento noi facciamo biogas, eh, di brutto, che accetta sia insilato, sia reflui animali, tanto lui, ecco, l'operaio sta continuando, andiamo al biogas, andiamo al biogas, ecco qua il biogas ragazzi, questo è il biogas, vedete, questo è il nostro insilato, e qua invece ragazzi, c'è lo scarico, come vedete, eh, c'ho un camion mega pieno di cacca, questa è tutta la cacca delle mucche, quindi fatemi scaricare, no, portello cereali, no, tu non scarica da portello cereali, tu non scarica, tu scarica così, tu scarica da, tu scarica tutta cacca, tutta pioggia di cacca profumata, allora ragazzi, ecco fatto, buttiamo tutta la cacca, e poi vi faccio vedere un'altra cosa, che ho fatto al biogas, ok, no, butta, butta, non ce va più ragazzi, non c'entra più, porca miserietta ragazzi, porca miserietta, per l'1% dei concime, mi tocca aspettare, vabbè, mentre che aspettiamo ragazzi, oh il lampione, vi faccio vedere, eh, che cosa mi sono ingegnato, grazie alla mod, eh, slurry thunder, che ci permette, trender, la cosa genere, di vendere il liquame, io che ho fatto, visto che ho del liquame, veramente in eccesso, del digestato, veramente in eccesso, dentro al biogas, che non userò né mo' né mai, come vedete, guardate che cosa sto facendo, riempio, qua riempio il digestato, e qua lo vendo, perché secondo me ragazzi, questa è una cosa abbastanza realistica, nel senso, le aziende, nella realtà, le aziende di biogas, non è che il digestato, se lo usano tutti e tutte per loro, lo vendono, lo vendono alle fattorie circostanti, eccetera, eccetera, quindi noi adesso, andiamo a simulare, che questo digestato, che vendiamo, non è che va perso, da qui, va distribuito, è come se noi lo stiamo vendendo, ai contadini di zona, alle zone di zona, si dice alle zone di zona, alle zone di zona, così ragazzi, noi al biogas, oltre che guadagnare, appunto, dal biogas, perché quando a mezzanotte, ci toglie i soldi, va a simulare, la produzione di gas, che noi facciamo, no, con il nostro letame, con il nostro insilato, ecco, oltre a quello, andiamo anche a simulare, che noi vendiamo, il digestato, che sono gli scarti, per chi non lo sapesse, della lavorazione, no, della lavorazione, della fermentazione, anzi, è più giusto dire, e quindi, abbiamo trovato, così facendo, un'altra fonte di guadagno, come vedete, ogni botte, garant, questa qua, ogni cot, ogni cot, ogni cottata, ogni cotta, ogni cotta, ogni cotta, ragazzi, sono 5.000 euro, quindi voi, immaginate un po', ogni 30.000 litri, di digestato, sono 5.000 euro, piano piano, uno se mette qui, il vostro robimello, se mette qui, piano piano, e vende tutto, insomma, è una cosa, è una cosa, più che positiva, ragazzi, più che positiva, ragazzi, io, come al solito, non voglio rubarvi, troppo tempo, so che, su YouTube, ci sono, tanti, tanti, tanti video, c'è tanta, tanta concorrenza, quindi, non vi voglio distrarre, da altri video, quindi, finiamola qua, facciamo le cosette corte, come al solito, io, vi ringrazio, di essere arrivati fin qui, ringrazio, con il cuore, tutti i miei abbonati, che come dico sempre, sono l'anima, il cuore del canale, ed è grazie a loro, che anche domani, sopravvivo, e sarò con nuovi video, perché mi aiutano a sostenermi, se volete aiutarmi anche voi, a sostenermi, a non sparire nel nulla, in descrizione, ci sono i link, per fare una piccola donazione libera, o per abbonarvi al canale, vi ricordo inoltre, di venire su Twitch, dove faccio live, quasi tutti i giorni, vi ricordo che ci sono, in descrizione, tutti i miei social, e tra cui, il mio server Discord, dove potete entrare, e unirvi al popolo del tubo, detto questo, ragazzi, in descrizione, potete comprare anche Farming, Farming a prezzo scontato, su Instant Gaming, mi raccomando, e tanti altri giochi, dateci uno sguardo, tra cui FIFA, PES, eccetera, eccetera, noi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!